Natalia Vodianova Natalia Vodianova, ecco come avere labbra seducenti Come fa Natalia Vodianova ad avere labbra seducenti? La risposta la rivela la modella stessa, condividendo con tutte le sue fan uno dei suoi beauty look preferiti. I colori sono molto accesi e risaltano nettamente, ma in maniera armoniosa sul viso delicato. Natalia Vodianova svela il suo rossetto più sensuale. Natalia Vodianova Alla Paris Fashion Week, dove mette in risalto il suo viso, già innatamente meraviglioso, con un tocco rosso acceso, per rendere le sue labbra ancora più seducenti. La bellissima modella russa ha un viso di afano, etereo e angelico e in effetti, anche con pochi tocchi di make-up, la sua bellezza brilla di luce propria, incantando con un solo sguardo chiunque incroci i suoi splendidi occhi azzurri. . Da questo scatto condiviso con le sue follower, Natalia mette in evidenza un'arma vincente in fatto di sexy look, le labbra sono importantissime e il viso, anche se già perfetto come il suo, acquista un allure ancora più sensuale con decisi tocchi di lipstick rosso fuoco, steso ad arte con un sottilissimo pennellino rigido. . Ovviamente, previa stesura del gloss, le labbra dovranno essere idratate nella maniera più accurata e, sempre per seguire i beauty tips di Natalia, usare un olio per il viso pare un toccasana eccezionale, visto che la sua pelle sembra di porcellana. . 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